Saluto a tutti e benvenuti al nostro primo appuntamento con Trade Life Simulator Approfitto per ringraziare il mitico amico Fanboost08 per il letto Un caro saluto a tutti e ti eccoci qua Allora, oggi andiamo a Vedere un pochettino Di cosa si tratta questo gioco Prima di tutto voglio ringraziare gli sviluppatori Per avermi donato la key Sono della DNA Army Detto questo, iniziamo subito Grazie ancora a me Fernbus Visita al negozio di mobili per acquistare nuovi mobili Perfetto, ok Allora, Fernbus, grazie ancora per il ride Benvenuti a tutti Allora Qui si riparte praticamente da zero Adesso prendiamo l'auto Ok, dobbiamo andare Al supermarket Press M to open the map Ok Premiamo M Ok La nostra automobilina è qui Controllo lo stato dell'auto Premi E Ok Quindi premo E Ok Olio E tutto è a posto Perfetto Se il tuo icon è a corto di carburante Utilizza il telefono Premendo il tasto N Però devi comprarne uno prima Beh, giustamente Ok E vediamo un pochettino Il nostro ciccinillo Cosa è capace di Di fare Oh Un po' lungo M 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 eccoci qua Allora, usa il portatile per salvare i tuoi progressi, ok, quindi, allora dobbiamo andare a acquistare il cellulare, mi sa, esatto, uno smartphone perfetto, era quello che stavo andando a fare, voilà, oh la la, ciao, aiuta, apposta, senti, mi sembra un bel telefono c'è allo mare, ok, grazie, allora, ok, quindi tasto N e ci esce il telefono, tocca, non c'erò, c'è manca un po' di scinastica, oh, eh, tutto a posto, guarda, tutto a posto, oh, ah, eh, già ci sta qua, buongiorno, allora, il lavoratore gestirà il processo di vendita, devi solo collezionare i soldi dalla cassa, quindi prendere, prelevare, no money collect, premi Q per posizionare i mobili, allora, eh, laptop, mettiamo qua, ok, poi, eh, ci serve, wall, no, rack, rack, questo qui, posto, nuova, e beh, giustamente, allora, e questi poi sono, queste sono cose che poi dobbiamo andare a, a prendere, allora, qua c'è, inizia a disimballare, le merci premendo F, ok, guardando la scatola, perfetto, visi e negozi di Jabber per fornire, ok, il mitico Jabber, grazie mille Ferbus, non so se è ancora in live, grazie mille per il ride, il mitico Fanboost 08, diciamo che me li ho messi in vendita, un po', ok, mi ricordate che la laptop serve per salvare i progressi, ok, allora, salva il gioco, ok, no anacardi, ok, no anacardi, ricordiamoci di anacardi, che altro c'è rimasto qua? no anacardi ha detto, no anacardi, no anacardi, no anacardi, no strato di pollo, andiamo da Zobber, come si chiama là, io l'ho messa proprio, molto meno, c'è, ecco qua, fammi, ecco, auto washing powder, la polvere, potente qua, ecco, allora, andiamo un po', ciao azzurrissimo, buon pomeriggio a te, allora, macchina per succo, allora, edicola 150, ok, dove si mette, allora dovrebbe essere tasto Q, andiamo un po', no, dice che, essendo qua, ah ah, azzurrissimo, ahiaiai, facciamo uno shoot out, mitico azzurrissimo, ci stiamo improvvisando un pochettino, qua ci siamo in blog usando un po' commercianti qua, allora detto che voleva allora, passiamo dalla banca allora, vai nella banca per trasferire il denaro prendi un presto e metti i soldi sulla tua carta che puoi utilizzare anche in ATM, ok oh, questa si ferma giusto in mezzo alla strada buongiorno buongiorno tutto bene tutto bene allora, vediamo un po' mettiamo 50 ecco qua trasferimento ah, ecco, ok quindi mettiamo 50 qua no, ci metto un secondo all'ora in banca ok quindi mettiamo 100 non hai questo amount ah, ok, giustamente ok arrivederci allora, non candeggina manca manca sia la candeggina manca anche le arachidi qua dobbiamo andare da Jabber 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 tutto bene carissimo come ti senti spero ti sia ripreso un pochettino oppla dai che siamo super macho king Jabber dovrebbe no, non è Jabber qua questo è il meccanico bello l'autoradio ahiaiai no patata ahia ragazzi qua bisogna comprare un sacco di cosucci allora, Jabber Jabber, Jabber forse è installato in fondo no Jabber non è installato in fondo via via ci aspetta Jabber ok allora, non ti preoccupare grazie grazie sempre per di pensare non ti preoccupare adesso devi riprenderti prima un pochettino poi quando starei bene passeremo un po' più di tempo insieme oh ragazzi siamo arrivati da Jabber allora alcuni prodotti devono essere in danni o pericolari altrimenti marciranno ok ok allora iniziamo a prendere allora era Candeggina se non ricordo male questa ce l'abbiamo allora prendiamo qualche snack qua prezzo alto allora sì marmellata come si fa? acquista ecco qua dove si apre il portellone qua ora si apre il portellone eccolo qua mettiamola così poi era qualcosa delle nocciole se non ricordo male farina alto prezzo alto qui sto no anguri aiaiai qua olive piselli passata di pomodoro polvere esercente in polvere il riso allora vediamo un attimo ammorbidente ammorbidente dove sta? ammorbidente dove? di qua dovrebbe stare ammorbidente oh ma si apre questa è candeggina ecco qua ammorbidente allora quanto c'è rimasto? 82 ok che dire di andare ciao ci vediamo 7 buoni ciao per eh ragazzi speriamo di ritrovare la strada qua qui la azienda carissimo come stai? ben ritornato allora dove devo andare verso la la farm si ci stiamo un po' improvvisando dei commercianti qua 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 mi sembra sbagliato a strada forse è qua tutto bene carissimo siamo leggermente in ritardo qua stiamo stiamo cercando opla oi è sbagliato lo sapevo tiriamo il freno a mano di urgenz ora pronomi brigitte bardo bardo brigitte bardo bardo brigitte bardo bardo mettetela con questa litania mi dai nervi grazie grazie per il brigitte bardo e soprattutto grazie per il ride di prima scusami se non sono potuto venire ma veramente ho fatto le cose molto 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 di corso oggi opla ecco qua dov'è aspettano di là ecco qua sempre lì la ciambello mamma mia siamo veramente in leggero ritardo ragazzi mi ha messo scusate 2cc tutto a passo è arrivato capo e oh facci la miseria ah io qua devo scaricare alla faccia del bicarbonato di foglio ragazzi maravillata allora io questo quasi faccio così prendete signore e signori venghino venite da zio tab ragazzuoli tutto bene ragazzi un attimo solo e vi faccio lo shootout l'S8 eccoci qua allora oh via eccoci qua il primo mitico fanboost 08 oh stavolta sono stato bravo sono riuscito a prenderla appena in tempo allora questa abbiamo detto che cos'era ammorbidante giusto non mi sbaglio sì allora mettiamo qua sotto qua ci vogliono i pannolini le couche pannolini le couche pannolini l'america l'assemble dell'immunità e vero in realtà le sto mettendo a maluccio metto così oh via vediamo un po' che ti salviamo un attimo i progressi allora salva allora manca ah noccioli ecco cosa manca sì ok quindi no problema allora anguria riso ok vediamo un po' vediamo un po' cosa c'è qua grande ferm mi è fatto veramente scompisciare dalle risate allora a dire quasi quasi mazi mi raccomando seguite 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 il mitico fermbus questa si è stancata subito subito su su dobbiamo andare a comprare ancora ah ma sono le 20 ah però allora facciamo così chiudiamo il negozio chiudi il negozio chiudi 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 fermbus 08 sta ospitando la diretta zero ospiti entrati nella diretta benvenuti grazie mille mitico fermbus grazie allora come che si chiude qua aspetta mi pare che si va si va qua vicino credo eh sì ok oh ok allora devo mettermi ma qua c'ho io tutto ma tu guardano poco mi sa proprio scordato di andare a vedere nel magazzino cosa c'era oh l'ho preso in più ai 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 ludo buongiorno a te carissimo buon pomeriggio e ben ritornato mitico fermbus grazie in questo momento c'è azzurrissimo se c'è ancora c'è il mitico fermbus poi c'è passato a trovare il nostro amico leo e ci sei anche tu oh yes oh yes ammorbidente ah nasce quando ce ne sta aveva visto che è fortunatamente sì fortunatamente amma mia ragazzi sembra facile ma non è qui l'ho visto giocare ad altri amici streamer sono molto molto bravi eh ora qua ci dobbiamo montare andiamo un po' il letto a fare Q ecco qua per il momento dormiamo nel negozio qua no non mi fa dormire nel negozio ok ah fermi poi io sto per venire da di solo che nel frattempo che mi sono che mi sono sistemato un attimino che ho fatto abbottarti infatti ero rimasto con il pensiero avevo fatto pure la promessa che sarei venuto a darti una mano solo che purtroppo diciamo così sono arrivato proprio che è il goccio oppa là allora se non ricordo male no non è qua non ricordo male di avanti dopo la curva a sinistra mi pare devo docella qua ci sono gli altri fornitori a proposito ho visto pure io quella mod ho scaricato la mod quella lì per fare il ketchup la dovrebbe essere questa la casina veramente oh ma qua ci sta allora la stanza la stanza da letto si quasi quasi lo metto qua allora qui mettiamo il letto invalte adesso lo fa lo fa vedere no che ho fatto f eh ma le patatine che fa fermbus sono speciali sono leggere molto molto leggere allora qua ma dobbiamo mettere ancora dov'è bagnetto ecco qua qua dobbiamo mettere la tazza the toilet the toilet the toilet paper let me see whoop 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 people let me see whoop 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 la nostra automobilina è bella e parcheggiata oh yes oh yes andiamo ad aprire il negozio qua che poi ci aspetta vicenzino ci aspetta vicenz vicenz se non ricordo male si gira di qua e poi no ah no da già per giusto giusto ecco qua già per buongiorno allora cosa che manca dobbiamo premere B mi pare no il telefono come che si faceva eh no allora vediamo un po' alto alto allora sono andate le tomate che erano quelle lì queste qua com'è che si fa salsa oh via qui qui apri apriti il sesamo oh yes che dobbiamo fare presto dobbiamo andare da fanbus allora che altro ci sta buon prezzo eh 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 non l'ho ricordato Toilet Cleaner Allora si Aia Devo andare in banca Sono sento Dai dai Corrisci Dai dai Le chicane Qua non mi perdo un'altra volta Ah Furniture Shop Furniture Shop Ci siamo? No ho sbagliato Su su Presto presto Che Vicenzino ci sta aspettando Al negozio Vicenzo Vicenzo Stai facendo Movi di brecco brecco Arrivo arrivo Oh 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 Ecco Ecco una cosa che consiglierei agli sviluppatori E' quella di permettere di poter guidare anche con la mappa aperta Oh 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 ci stiamo perdendo how to save yes io sono lady 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 io sono chiarina con pijama rosa ma no ma no io sono lady 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 ma sono chiarina ti mando del trampozzo oh finalmente abbiamo trovato la strada andiamo ad aprire subito subito il nostro vincenzo ci sta aspettando eccolo qui oh vincenzo è preciso eh raga vincenzino è precisissimo ragazzi è un ragazzolo veramente incredibile ma red eye fish su su dai vincenzo è tutta apposta tutta apposta segna bene bene andiamo in banca hopla andiamo a depositation salve segno allora abbiamo 50 50 allora dire di fare così trasferimento mettiamo 50 ecco qua ok lasciamo 100 e per poi devo dire di fare una cosa ok ok allora andiamo subito noci ah le patatine ok andiamo a prendere le patatine oh l'ammorbidente si rende veramente tantissimo devo riuscire ad orientarmi qua oh là detergente no detergente no qua guarda dovrebbe essere già per dovrebbe essere qua se non ricordo male no e qua forse no no bella sportive c'andiamo è stata mobilina no ok nel frattempo il negozio mi sta andando abbastanza bene pan in cassetta allora adesso dove mi trovo allora come si fa where I am eccolo qua jobber so questo jobber buongiorno come si fa a vedere il cellulare come si utilizza grazie grazie allora mi sono scordato quello che dovevo prendere oui moreno carissimo buon buomeriggio a te detergente se non ricordo male moreno ma qual è il tasto per utilizzare il telefono qua mi sono diventichato aspetta buon buomeriggio a te facciamo lo shoot out a mi dico moreno oh yes oh yes vediamo un po' se siamo fortunati sto scendo pazzo no non è qui ma quello è uscito pure scritto prima m vediamo m m la mappa no scia miseria ah riso 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 ci vuole ragazzi ah e come si fa qua allora facciamo così mettiamo 50 il riso è un po' alto ma ci vuole no non ho capito perché mi dice non hai ahiai ahiai oh qua ci sono anche le baguette prezzo alto prezzo alto e ci ha aperto tutto a posto ci vediamo quindi devo andare in banca oh qua ci sono anche le baguette hanno appena un po' lunghe infatti ho visto ora che anche tu hai avuto una poca difficoltà che cosa stai facendo di bello dici un po' un po' renunzo oh yes oh yes siamo arrivati al negozietto andiamo un attimo alla banca permesso permesso ah ok giustamente lasciò allora andiamo un po' oh grande andiamo subito al depositation qua ciao caro allora 620 facciamo 600 ok poi facciamo 50 questo lo e prendiamo altre prendiamo questo qua prendiamo 100 ecco qua ciao ci vediamo tutto a posto giruzzo tutto bene ah quindi sei a buon punto io direi ottimo stai facendo una specie di real come si dice roleplay o stai preparando o stai preparando un un server o una partita by yourself ah ah giusto giusto ragazzi mi raccomando eh tutti sintonizzati dal mitico morino jabber sta più avanti ok jumper jumper qui destra qua e poi subito a destra get up stand up jumper oh yes oh yes ok ok qui ah già persa qua qui ho sentito uno strano ruolo allora il riso lo volevano ah ecco ah infatti dicevo io che sentivo allora mo mangiamo qualcosa mo ci andiamo subito subito allora che altro mancava ah la sabbiettina per i gatti qua gli animali prezzo alto no no spray detergente spray 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 detergente eh sì infatti eh lo vedo anche bello lo sento dei polucci ecco perchè non corre nemmeno no 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 se poi premi tab dai letto ah e il tab ah ok marmellata andiamo a mangiare ragazzi non si legge più in piedi hai fame non puoi correre anduglia facci la miseria buy food ui com'è possibile sto per morire sto per morire ragazzi sto per morire tab premiamo tab eeeh eeeh fammi raccogliere qualcosina qua dai su ok senti come brundola la panzella ma ce la fa anguria eh 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 ok ok allora scarication qua cibo secco per gatti queste cosa è riso oh questi sono quasi sappiate quasi dove tolano quasi quasi effettivamente è un po' un po' particolare questa disposition vengono signori vengono tangere da ciciniello troverai il riso bello il riso fresco è il riso più buono più pazzo del mondo oh yes oh yes eh questa non ci va qua e dove lo metta lo metto qua questo mi è costata una cifra questo riso cibo secco per cane ecco cosa serviva eh dai su su venga guarda stand up get up get up get up bippo native bippo native su su a mappa queste vanno proprio di fritta allora li quasi quasi nel frattempo ma io quel bagnetto lo devo mettere però eh allora buon supply store dove che si trovava e qua non esce se non esco dall'abitacolo non mi fa vedere la mappa allora ristorante allora io sto alla banca store e qua dove sto io quindi ipoteticamente dovrei andare grazie un grande applauso a tutti quanti e tuz e tuz e tuz allora esco la shop la shop shop sta qua quindi dall'altro lato dovrei andare allora intanto facciamo così però eh chiudiamo permesso scusate c'è 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 un po' di fritta ragazzi il prossimo la prossimo la prossimo la prossimo la prossima cosa che devo fare è mettere il bagno nel il 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 lah la mi so persa dov'è qua andiamo a fare i bisognini dove sta ui Guarda là! Ecco qua. Andiamo a dormire. Uè, sembrano sacciotto. Pagamenti della fattoria. Saranno ricevute le 22. Ah, ok. Poca roccia. Adoro. Ah, abbiamo pure oggi. Allora, sperimentiamo un po'. Esploriamola un po'. Perché qua... Ah, ecco qua. Qualcuno aveva chiesto patata. Mamma mia come piove. Un prezzo alto. Un prezzo alto. Un prezzo alto. Un prezzo alto. Quindi mi tocca... Mi tocca andare ad acquistare la vasca, se non ricordo male. Giusto? Ok, allora. Ok, ecco qua. Oggi, ecco qua. Ok. Ah, anche per effetti si fa giro e giro d'uno in questa mappa qua. Dobbiamo andare a comprare, infatti lo devo assolutamente, sono tornato indietro. Allora, io dove mi trovo? Questo non sono riuscito a capirlo, allora mi trovo in quest'area qua, quindi devo andare sempre dritto, ma si sa qua sta, no continuo a non capire, eppure sono dotato di un grandissimo senso dell'orientamento, ma qua, ah eccolo qua, sta qua dietro. No, ok, non si può, ok, quindi a girare intorno, andiamo a comprare la vasca. Ah, giraci. Siamo arrivati. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Allora, non c'è una, scusate ma mi sta facendo a tassia. Allora, un bel patelino. Com'è che si acquista? Gabinetto. Ok. Ah, cioè qua praticamente, le portafogli si devono trasferire. E sta carta di credito a che serve? Allora. Andiamo. Abbondiamo. Abbondiamo. Cinquecento. Gabinetto. Acquiste. Caspita, hai ragione. Hai ragione. Allora, allora, dobbiamo abbondare assolutamente qua. Allora, trecento, mettiamole. Trecento, duecento. Così prendiamo anche la parete e facciamo un bagnetto. Qua l'ho preso per... Per fare il bagno nel negozio. Allora. Uno. Ok, va bene così. Da, dovremmo avere. Il bagnetto. Allora, adesso devo andare a destra. Poi, come quarta la strada. Sempre dritto. A sinistra. Dove è venire il fast food. A barra. Opla. Sta arrivando Vincenzo. 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 Arrivo, arrivo. Ecco qua. Ecco qua. Vai, Vincenzone. Ok. Allora, vediamo un attimino di costruire. Un piccolo bagno qua. Allora, pare che è qui. Ok, allora. Io è quasi quasi. Uol, ecco qua. Ok, Morino. Grazie ancora per essere passato in Livest. Ci becchiamo poi da te. Grazie, grazie. Allora, mettiamo un'altra. Dov'è? Voilà. Ecco qua. Almeno, se dobbiamo venire a fare i bisognini qua. Anzi, mettiamo prima il frame to work. Ok. Escan. Allora, frame door. Door frame Mac. Non, 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 non. Allora, non, non. Allora, non, non. Allora. Walla. You're my one day. Wow. ecco qua una porticina amma mia queste quante cose vogliono giustamente hanno raggiù la porta questa cv mettiamo da qualche parte qua quando devo andare in pain interagire cc che cosa manca allora vediamo un attimino allora paga le bollette dov'è gestione allora paga le bollette oh wow hai capito allora che serve ok ok mo iniziate a capire eh che siamo 60 tibole no cibo per gatti sta morendo oh e che sta succedendo povera ok a cosa serve la carta allora olio per friggere ai 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 quanta recuperate Andiamo a pagare il mondo da qua. La mappa, credevo fosse più semplice di andare a noi. Ok, interagisci. Abbiamo 96, mettiamo 50. E poi mettiamo 50 qua. Corri, corri. Corri a pagare la bolletta. Ticca, ticca, ticca. Oh mia, oh mia. Dai, su, su, su. C'è una bomba esacerata. Invece dobbiamo andare a fare anche il bagnetto qua, eh. Ok, perché? Ok. Fammi pagare questa bolletta qua. Allora, pagare la bolletta. Bolletta, bolletta, bolletta. Ecco qua. Ok, dobbiamo andarci assolutamente a fare un bagnozzo. Andiamo, andiamo. Grande vincenzione. Non ho sbagliato. Si fa il giro dell'isolato qua. Non ho sbagliato. Eccoci. Dobbiamo pulirci. Dai, su, su, su. Si. Allora, con me è il cu... si. Bagno, ecco qua. La vasca. La vasca. La vasca della. Su, su. Dai. Ah! vai facciamoci sto bagno qua annacce veramente fatto un bagno quanto è una casa proprio allora adesso stiamo meglio o la o la adesso ammazza che driftata ragazzi sta arrivando vincenzo vincenzo mi abba da me vincenzo è una parola valtarino buon pomeriggio scusami ma non ti ho proprio visto voilà e bentornato a te ok allora cos'è che manca all'interno 138 andiamola a depositare in banca qua ciao ragazzi tappa su tappa su grazie 138 e scusami 138 ah ok allora facciamo il preside va altrimenti qua non ne usciamo più oh yes oh yes e tu e tu e tu no fazzoletti c'era il scivone allora questo passa troppo le rigole ci sta allora quindi cibo per gatti allora gelato a cioccolato dolce un po' salato gelato a cioccolato dolce un po' salato ma andiamo dal jumper gelato 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 ah ma qua sono le sono le 19 allora a destra hopla poi a sinistra se non mi guardo male a sinistra se non mi guardo male poi a destra da jumper jumper che sto arrivando tutto è cosa sfizio che è che è tutto è qua mi porta allora gelato e degli gios allora prima il cibo carino e gli animali un cibo per cani anche se è caro poi dobbiamo prendere ancora ammorbidente candeggino ok, candeggina 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 ecco qua frutti di mare poi che altro ci serve qua allora il vesteso finire poi devo prendere ancora i pomidori che stanno qua la bombadola adesso mi dici che prezzo alto eh chips no, io direi di investire in alto allora prezzo alto prezzo alto prezzo alto prezzo alto prezzo alto un bel portapacchi qua succo d'alacia subito succo d'alacia rischuto 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 succo d'araccia latte a cioccolato latte a cioccolato quella Daniele carissimo buon pomeriggio a te è ben ritrovato applausi ragazzi sto facendo questo nuovo gioco qua che mi hanno dato alla che gli sviluppatori è un gioco che consiste nel gestire un negozio devi praticamente ricordarti di pagare bollette di andare dai fornitori è una corsa prelegna qua in una città un po' particolare qua sta sbagliata strada ah, meno male intanto si gira si gira e io vago e io vago e io vago effettivamente qui qui qua cosa abbiamo? coca cola ho la canuccia corta corta allora io messo subito subito facciamo una sistematina notturna qua il nostro vincenzino è andata giustamente si è andata a riposare bene invece noi ecco qua ci sistemiamo la merce candecina subito candecina oh via candecina approvosto devo devo ritirare ecco qua magra ma un incasso magro ma non sembra mai di zero eh ragazzi l'avevo sottovalutato eh ma bello 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 difficilotto eh sto giochino allora ammorbidente qua devo fare un'area tutta detersivi ah questo mettere sotto lo facciamo qua lo facciamo qua nel frattempo con l'etichetta che si vede se si vede qualcosa ok vabbè allora il detersivo l'abbiamo preso cibo per cani sicco eh beh giustamente allora qua lo mettiamo devo comprare un altro scaffale qua questa è questa è carrot jam marmellata di carota marmellata di carota ha marmellata il cibo per il cacciotto manca il cibo per i nostri gattozzi gattini gattucci allora questo qua quasi quasi lo lascio mettiamolo qua che ho fatto? ah mi ricorda sempre che su su dai oh yes oh yes dai ecco qua vediamo se riusciamo ad appoggiarla da qualche parte vabbè lasciamo qua cos'altro abbiamo preso? succo d'arancia 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 Caspiterina! Aiaiai Che mai che si fa così? Aiaiai Allora questo devo lasciarlo qua Non posso metterlo, devo acquistare il frigo, questo è? Latte al cioccolato, aiaiai Ok Quindi ci tocca andare ad acquistare Tanto andare a dormire qua Non fare incidente Ah, devo chiudere il negozio Ah ma che qua sta piovendo da un sacco di tempo Qui vicino, sempre diretti Esatto, sempre fino a sinistra Non si vede proprio niente, non si vede qua Sempre dritto Ok Resta un'altra La fa... Ah, qua dobbiamo anche farlo mangiare, ok ecco qua allora acquistiamo vediamo se riusciamo ad acquistare il frigorifero ok allora qua mo c'ha fame e quindi dobbiamo andare subito a mangiare qualcosina ci abbiamo il fast food qua vedo fame al 44 per cento erico andiamo a trovare erico erico buongiorno erico mi dai una bella pizza grazie allora bella pizza ammazza quanto costa sta pizza no niente come ho detto vado a risparmi stamattina ah intanto fammi passare la jubber qua vabbè ci passo dopo sembra tutto andiamo a mangiare qua così ok mamma mia come è come maleducato ok allora che ci serve ah si devo ah si devo allora intanto salva non latte a cioccolate sta per arrivare ragazzi stai per arrivare ragazzi un po' di pazienza ma andiamo ad acquistare il banco frigo ok allora la scorciatoia doveva essere qua se non ricordo male stai per arrivare ragazzi un po' di pazienza ma andiamo ad acquistare il banco frigo ok 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 e' sportivegiana questa macchina eh ok qua da jubber no ah no ma sono i ziesti che mi trovo da jubber prendo qua cosi no allora di sciva e te rosa allora vediamo un po' il tè il tè il tè il tè eccolo qua prendiamo questo andiamo ad acquistare si fa non ho capito ora dove si deve andare c'è un ciroppo là ah forse è qua dai d'un tempo su ora dobbiamo farcire dall'altra parte qua no candeggine dovrebbero implementarla si torna a casa sinistra e sinistra ecco qua si si qua sta il tratturiello allora dobbiamo acquistare il banco frigo qua aia 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 quanto costa questo cento sette e cinquanta e qua quanto ha fatto un errore questo sette e cinquanta mamma lo calma banco frigo più piccolo ma c'è ragazzi sto pensando quasi quasi di mettere il letto nel negozio questi costano sempre sette e cinquanta andiamo un po' banca quanto mi puoi prestare a farci una miseria andiamo a recuperare l'incasso qua e adesso pista pista allora se non ricordo male si può andare anche dritto qua e infatti sbagliavo mi sbagliavo mi sbagliavo ritorno aia aia ti piace tanto tanto fare il drifting o drift un saluto al mitico amico drift oh yes, oh yes, allo sinistro allora andiamo subito 154, ancora poco allora mettiamo 500 perché? ah, 400 no, aspetta 4, non dici, facciamo 300 di cui mettiamo 150 sulla carta eh, mamma mia infatti è molto qua ci abbiamo anche dove sta? Don Vascuale, buongiorno come non ho detto arrivederci è un po' particolare ammorbidente ci sta in abbondanza ma il latte a cioccolato si è venduto si è venduto il latte a cioccolato però questo richiede rotten product che roba è? oi 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 che cos'è questa? alte non ci mettiamo qua? fresh help altri oh yes, oh yes c'è qualcuno che bussa oh, che ho fatto? l'ho messo proprio ah, che si metto qua sotto oh, ah si cipide il tè si vende va che è una meraviglia il tè gelato a cioccolato dolce un po' salato un gelato a cioccolato eccolo qua questo è l'ultimo pezzo ecco qua allora, qua ci sta cibo secco per cani c'è ammorbidente qua di base lo finisco di svuotare visto che ci troviamo noi c'è due senza tre oh yes, oh yes e dai ecco qua su, su giochino veramente particolare veramente molto molto complicatuccio da portare ragazzi credo fosse molto più semplice è molto più easy in realtà non l'è affatto e l'ho visto giocare ad altre persone ragazzi questo è cibo secco per cani qui se non capite che cos'è rotta nf to dispose cash ah ah credo di aver capito allora andiamo a depositare ok subito 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 allora ci abbiamo 289 depositiamo 100 ok mettiamo il pagamento automatico della bolletta altrimenti qua ci ci mettono ci vanno stare un'altra volta a buio no anacardi ok però qua devo ancora pagare il debit dai quindi che altro c'ho qua un po' ok ok quanto ci abbiamo 32 siamo ancora ci abbiamo ancora pochi spiccioletti qua ok quindi finché non riesco ad acquistare anacardi quindi finché non riesco ad acquistare il banco free non non mi conviene acquistare giustamente cose da conservare frisch giustare giustare andiamo alla chaper 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 noccioline anacardi ecco qua sei rimasto ancora? è rimasto sospeso questo latte al cioccolato allora qual'era il cosa in polvere? allora le pipite il latte al cioccolato? beh se non ho il frigorifero non lo faccio non lo faccio ah le cialde le cialde del caffè polvere da 300 ok anche se costa carino non bisogna prenderlo ragazzi ok direi che cos'altro ci manca allora carta igienica ahia 79 facciamo 100 è veloce ecco qua ecco qua ho preso qualcuno in mio mi sa vedersi in polvere ok direi che possiamo anche andare ciao chaper ci vediamo no no è stato buono i cialber di qua prima Spero di più che altro dovrei Andare al negozio e devo acquistare gli scaffali No caffè, sta arrivando il caffè Il caffè padacca è il caffè che spacca Il caffè moreno è il sonno viene meno Allora fame Andiamo a mangiare Ecco qua Allora Detersivo in polvere Le pezze mettiamole qua Poi piano piano ci sistemiamo tutto Oh queste se ne ha Anno mila Non ci sono le miele Aiaiai ragazzi La fatta è grave E non è buono Buono ma buono Buono ma buono No patata No poteto Dove lo metto? Lo mettiamo qua Oh il tè L'hanno acquistato Cioccolato fondente Dai aiaiai ragazzi Questo è l'altro Bastoncini di caffè Allora questo lo depositiamo Oh Viste nel negozio di mobili per acquistare un bagno Ok Questo l'ho già visto quindi Questo facciamo così Lo depositiamo qua Il latte a cioccolato lo togliamo Altrimenti Da solo il piccio Alla Coca Cola Ecco qua Ola 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 Ho visto Brixia E non ho io E salutiamo il mitico Brixia Un altro bravissimo amico streamer E salutiamo anche Il mitico Macho King 82 Questo lo metto qua Oh via Questo che cos'è? Anacardi Eccole qua Le anacardi Allora qua quasi metterei Il tavolino Eh Visto che c'è Li metterei Qua 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 non si può fare sì, sì Wunderbach Wunderbach mamma mia sì, Wunderbach ho messo un po' valla, come va va e là va dai Vincenzo tieni tu no Vincenzi dai Vincenzi dai Vincenzi qua dobbiamo magari i tepiti ecco qua ah ancora latte a cioccolare un gashpiderino allora salviamo ui ne ne allora arrivati a questo punto chiudiamo i negozi e andiamo a casa adesso e si va a dormire oh via hai chiuso pure il negozio ho una parola ho una parola impressione di non aver acquistato il cellulare poi vedremo il prossimo rendezvous oplà oplà mamma che cosa si fa fatto all'improvviso aspettami dove resti arrivare no sbaglio sempre ah sono le 11 si fa tardi andiamo a casa e poi riprendiamo riprendiamo la progression e allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete stati in live e questo video sarà disponibile su youtube venerdì allora dov'è la casa chiude qua facciamo zip zip e tutto oh yes oh yes e allora ragazzi approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia in questa diretta sperimentale allora ragazzi per voi che state guardando questo video in replica la programmazione continua mentre invece per voi che siete in diretta vi chiedo la gentilezza di restare andiamo a fare il ride un ride lo andiamo a fare a Cirillo l'amico Cirillo allora approfitto per ringraziare aliasso ringrazio valterino 81 ringrazio morino ringrazio fermus azienda agricola snc l'appuntamento è ovviamente per tutte le mattine con farming simulator 22 e grazie mille a tutti e ci vediamo domani mattina ci vediamo tutte le mattine e quindi vi saluto con il mio saluto torre dico alle pendici del monte col con il mio saluto Grazie.